Quando la tecnologia si mette al servizio della salute, a Faenza ad esempio sono state installate 10 nuove telecamere con un software potente e innovativo che permette di contare immediatamente il numero delle persone nei parchi e negli spazi pubblici, oltre a saper separare e organizzare le stesse riprese tra umani e mezzi di trasporto. Si tratta di una importante dotazione per il territorio che, se ce ne fosse necessità, grazie al sistema informatico adottato e alla grande definizione degli occhi tecnologici, permetterebbe anche di riconoscere i volti delle persone. Una nuova video intelligenza artificiale che, in questo periodo di quarantena e di rispetto della cosiddetta distanza sociale, darà una mano ulteriore alle forze dell'ordine per scongiurare eventuali fonti di trasmissibilità del virus. Il tutto, ovviamente, oltre a rimanere un efficace strumento deterrente e di investigazione per i reati.